Tra le collezioni geografiche della Fondazione Benetton Studi Ricerche abbiamo anche la collezione Vianello. Si tratta di una collezione privata di un medico dontoiatra, Domenico Vianello Botte, che tra gli anni 70 e 90 ha collezionato in sostanza tutte le cartografie, si parla di un centinaio di pezzi, che ritraggono Treviso e il territorio. All'interno della collezione Vianello possiamo trovare gli archetipi della raffigurazione della città e del territorio. Quindi partiamo da immagini che vanno dalla fine del Quattrocento fino all'Ottocento. Qui ad esempio possiamo notare la Treviso di Jacopo Foresti oppure quella replicata da Schoensperger nella fine del Quattrocento. Tra le cose straordinarie di questa collezione abbiamo ad esempio anche gli interni della città di Treviso, come questo prospetto per la costruzione del ponte davanti alla porta a San Tommaso di metà dell'Ottocento.